una luce diversa serviva la sostituzione di oltre 2700 punti luce porterà sicuramente a un risparmio energetico importante col passaggio a led di ultima generazione ma sull'argine maestro di casal maggiore si poteva e si doveva fare qualcosa di meglio è questo l'ultimo spunto di vis polemica offerta appunto da casal maggiore ma andiamo con ordine il comune ha sposato il project financing di tea e a2a nel maggio 2019 e nelle ultime settimane è iniziata la posa dei vari punti luce il punto però è che la critica è prettamente estetica e si concentra soprattutto sulla forma scelta per i nuovi lampioni considerati anonimi e privi di bellezza lungo l'argine facendo venire meno il chilometro romantico che soltanto un anno fa era stato proposto con tanto di rendering come idea di attrazione turistica da giuseppe boles poliedrico scrittore di casal maggiore che aveva ideato anche la finestra sul po incorniciando idealmente quello che molti considerano il più bel tramonto sul fiume quella finestra realizzata da brunivo buttarelli doveva essere il tratto finale la prodo di quel chilometro romantico che doveva passare dalla riqualificazione dell'argine bolles ha scritto una lettera una riflessione di critica in cui suggerisce come la presenza di questi lampioni anonimi sia un'occasione persa anche perché questi strumenti resteranno per almeno vent'anni non contribuendo a rendere indimenticabile l'argine d'accordo la sicurezza e il risparmio energetico ma perché non guardare all'estetica un'occasione persa concorda paolo zani altra voce culturale di casal maggiore che con bolles sta curando il progetto della città dei proverbi con le targhe recanti detti popolari da affiggere in vari angoli della città io non sono amante dei tavoli di lavoro ma perché non convocarne uno coinvolgendo storici e persone che potessero suggerire una strada alternativa c'erano bandi del galter e del po da 150 mila euro che potevano venire in soccorso così la giunta lascia una traccia davvero anonima da bolles infine un quiz provocatorio che passa da due fotografie da un lato l'argine di casal maggiore con la nuova illuminazione dall'altro la periferia di bucinasco come a dire il romanticismo che passa invece dalla finestra sul po dove è finito